Allora, dove? Centro commerciale Due Mari, località comuni condomini Maida. Qui, qui, qui. Poi l'altra domanda è quando? Quando? Domenica 29 ottobre. Bravo, bravo. A che ora? Ore 18 sono informatissimi. Perfetto, perfetto. Dunque, come si chiama la manifestazione? L'evento? L'evento Mappa dei Piaceri in Tour. Bravo. I conduttori? Ah, questo lo so, questo lo so. Passendo dal conduttore principale. Questo lo so, questo lo so. Allora, Luigi Grandinetti. Ah, peccato. Come peccato? Hai sbagliato, peccato. Comunque, lo ricordo ai nostri amici. Mappa dei Piaceri in Tour, saremo al centro commerciale Due Mari. Tanti premi, bellissime cose, vi faremo divertire. A partire dalle ore 18, domenica 29 ottobre. Allora, qui c'è la lezione partendo dal conduttore. Il primo conduttore è Paolo Giura. Paolo Giura, ma no, no, me lo ricorderò. La Ennevie dopo, Luigi. No, me lo ricorderò, me lo ricorderò. Capito? Paolo Giura. No, 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 ma ce l'ho, ce l'ho. Paolo Giura. Paolo Giura, Paolo Giura. Sì, ma chi cacchio è Paolo Giura? Scusa.